Eleonora, il tuo primo viaggio a piedi, è un viaggio molto impegnativo lungo il cammino d'Assisi, quali sono le tue impressioni a caldo? Sicuramente è faticoso dal punto di vista fisico, molto bello per la natura, molto forte, per la compagnia, quindi ci si libera la mente, si chiacchiera, quindi è una bellissima esperienza. Lo immaginavi più faticoso, meno faticoso, ti sentivi all'altezza? Non avevo aspettative, nel senso che non ho voluto pensarci, sono un po' partita così. Però ti eri allenata prima? Mi ero un po' allenata e non pensavo di riuscire a fare così tanti chilometri in una giornata e nonostante la stanchezza poi aver la voglia di ripartire. Cosa ti è piaciuto di più nel viaggio? La natura principalmente e poi il contatto con i compagni di viaggio, quindi l'apertura che si instaura, la voglia di chiacchierare e aprirsi anche su cose, parlare di cose intime. Grazie. 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 Grazie.